Non è la prima volta che il maresciallo Antonio Mascali, comandante della delegazione di spiaggia della Capitaneria di Porto di San Foca, subisce un atto intimidatorio e anche se i vigili del fuoco, intervenuti la scorsa notte per spegnere le fiamme che hanno avvolto la sua auto, non hanno trovato elementi utili ad accertare che ci sia stato il dolo, i carabinieri e la procura stanno indagando in questo senso. Le fiamme si sono sviluppate in tarda serata in un avviettore dell'Orso Marina di Melendugno dove il comandante risiede. Hanno avvolto la Mercedes classe A parcheggiata davanti casa e l'hanno distrutta. Qualche mese fa un episodio analogo con liquido infiammabile sparso sul cofano e sulla carrozzeria. Il comandante Mascali, di recente arrivato nel Salento, ha origini siciliane in questi giorni a casa per un periodo di vacanza. La notizia dell'incendio dell'auto l'ha raggiunto lì. Ed ora le indagini sono a 360 gradi ma si concentrano sull'attività messa in campo dai militari della Capitaneria in quest'ultimo periodo su tutto il litorale adriatico. Non sono pochi infatti lì di balneare i finiti nel milino dei controlli per una serie di abusi su tutto il territorio di competenza. E chissà l'attività potrebbe aver dato fastidio a qualcuno. Per questo l'episodio è ora oggetto della massima attenzione da parte delle forze dell'ordine che stanno cercando di vederci chiaro.